ben ritrovati ad un nuovo episodio della rubrica parola allo sponsor dedicata a tutte le aziende che hanno aderito alla manifestazione energy week organizzata team global media che per la prima volta nel 2021 è parte dell'attività di aigman associazione italiana manutenzione siamo qui oggi con centrica business solutions main sponsor dell'ottava edizione di energy industry ed efficiency qui con me c'è nicola morgese business developer dell'azienda innanzitutto nicola partiamo da una breve presentazione di centrica business solutions sì grazie marco buongiorno centrica business solutions è una divisione della multinazionale centrica plc storica azienda multi utility dell'energia nata in inghilterra nel 1812 è un gruppo di persone una squadra di persone fortemente appassionate del mondo dell'energia ci occupiamo a 360 gradi di quelle che sono le opportunità di efficientamento energetico di sviluppo industriale di competitività riteniamo che l'energia possa essere davvero un veicolo molto molto importante soprattutto in un paese come l'italia che non ha fonti tradizionali proprie quindi può giocare un ruolo in futuro estremamente importante nel panorama europeo e con centrica business solutions sicuramente un partner affidabile sia dal punto di vista gestionale organizzativo progettuale facciamo dell'innovazione uno dei nostri cavalli di battaglia la manutenzione la corretta gestione la capacità di monitorare gestire controllare le performance degli impianti sono tutti valori fondamentali per il nostro operare quotidiano grazie e cosa porta un'azienda come la vostra a diventare main sponsor di un appuntamento come energy week e come dicevo prima l'energia per noi chiaramente l'opportunità sulla quale noi basiamo il nostro il nostro business e la nostra voglia di mettere a disposizione la nostra professionalità per il settore industriale italiano che ha bisogno soprattutto in un momento come questo quindi l'uscita di una pandemia richiede sicuramente un nuovo slancio e la capacità di avere nuove visioni su quello che potrebbe essere il futuro si parla tanto nel recovery plan di transizione ecologica di efficienza energetica di decarbonizzazione sono tutti fenomeni che dobbiamo guidare e quindi riteniamo che le aziende se vogliono mantenere questi parametri di sostenibilità di credibilità debbano affidarsi a operatori con esperienza e con elevata professionalità non solo nella costruzione di un impianto ma soprattutto nella manutenzione ecco entriamo magari proprio nel dettaglio se ci puoi dare qualche informazione in più su quelli che saranno i contenuti del vostro webinar nel webinar che chiaramente vi invito tutti quanti a seguire affronteremo un caso di studio un caso di successo dove la capacità di centrica di gestire correttamente un impianto di cogenerazione parliamo di target target è un nostro cliente da qualche anno per un impianto di cogenerazione si è affidata a noi proprio perché abbiamo sempre gestito e mantenuto il loro impianto con dei livelli di performance assolutamente elevatissimi con un numero di ore anno registrato sempre in linea con quelle che erano le attese anzi superiori le attese contrattuali se così le possiamo definire quindi ha affidato a centrica anche la realizzazione di parte degli impianti fotovoltaici che di cui si sta dotando proprio per procedere in quell'obiettivo di sostenibilità di decarbonizzazione dei processi industriali che oggi appunto non può essere trascurato e quindi vedremo come gli aspetti di monitoraggio della performance di manutenzione dell'impianto sono la base fondante di qualsiasi ragionamento di efficienza energetica non si può controllare non si può efficientare quello che non sia in grado di misurare con stabilità efficacia e poi una volta realizzato l'impianto con chiaramente un livello di manutenzione assolutamente comparabile con quello che è la qualità e la professionalità riposta nella progettazione e realizzazione dell'impianto bene ottimo a questo punto ci diamo appuntamento a Energy Week con il vostro webinar grazie a Nicola per essere stato con noi quest'oggi grazie a Centrica Business Solutions per essere main sponsor di questa ottava edizione dell'evento ci vediamo dunque l'ultima settimana di maggio grazie a voi arrivederci